Ben trovati a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli. Papa Francesco, la vita è sempre preziosa anche quando si sta spegnendo. Covid, vaccinato il 96% dei pazienti con tumore, ma il 40% mai contro l'influenza. Ipoacusia e normativa sui nuovi LEA, quanto le gare porterebbero davvero ad un risparmio del Servizio Sanitario Nazionale. Invecchiare in salute con la giusta alimentazione. La vita è sempre preziosa anche quando si sta spegnendo. Papa Francesco, nel corso dell'udienza generale, torna a parlare degli anziani e della loro importanza nella società, anche nella vecchiaia, nella disabilità e nella malattia grave. Papa Francesco, dunque, torna sulla cultura dello scarto che sembra cancellare gli anziani e avverte non li uccide, ma socialmente li cancella come se fossero un peso da portare avanti. I vecchi, ha proseguito il pontefice, hanno tanto da darci, per questo noi dobbiamo insegnare anche ai bambini che vadano dai nonni. Il dialogo giovani, bambini, nonni è fondamentale per la società, per la chiesa, è fondamentale per la sanità della vita. Il 90% dei pazienti oncologici considera le vaccinazioni efficaci per la prevenzione delle malattie infettive. Tuttavia, all'8% le ritiene rischiose e il 40%, anche prima del tumore, non si è mai sottoposto alla vaccinazione anti-influenzale, mentre il 59% all'anti-pneumococcica. Sono alcuni dei dati che emergono da un'indagine della rete oncologica Pazienti Italia, condotta tra oltre 300 pazienti adulti con l'obiettivo di valutare la sensibilità al tema vaccini. Dall'indagine emerge anche che il 96% dei pazienti si è sottoposto alla vaccinazione anti-Covid. Di questi, l'83% ha eseguito tre dosi e il 2% anche la quarta. I disturbi uditivi, come sappiamo, colpiscono soprattutto gli anziani, ma il 98% dei portatori di protesi acustiche dichiara migliorata la propria qualità di vita. Il DPCM sui nuovi LEA non ancora implementato, ha però spostato gli apparecchi acustici dall'elenco 1, quello dei dispositivi allestiti su misura all'elenco 2, equiparandoli per metodo di acquisizione ai dispositivi di serie standard e prevedendo quindi l'adozione di procedure pubbliche di acquisto. L'unico elemento che potrebbe giustificare una decisione del genere è economico. Si ritiene infatti che le gare portino ad un risparmio, ma un sistema a tariffa potrebbe garantire qualità del servizio e contenimento dei costi. Sentiamo. Il sistema migliore l'ha già sperimentato da anni, l'INAIL. L'INAIL è un sistema buono che funziona per dare una buona prestazione a quelli che ne hanno bisogno. Un buon sistema a tariffa dove danno un'apparecchiatura moderna, un'apparecchiatura più che decorosa, che fa al contenti praticamente le persone che ne hanno bisogno. E danno soprattutto un'assistenza che non è l'assistenza di chi ti vende un apparecchio e quando te l'ha montato, installato, ti dice grazie e ci rivediamo. Io, per esempio, credo che avere un buon audioprotesista che ti sistema la macchina è una garanzia che la macchina ti serve davvero. In Italia gli anziani rappresentano più del 20% della popolazione totale e il loro numero è destinato ad aumentare ulteriormente. Per prevenire e rallentare le condizioni patologiche che accompagnano l'invecchiamento, una sana alimentazione e un corretto stile di vita sono fondamentali il servizio. Mangiare variato con pasti leggeri e frequenti. Non saltare mai la prima colazione. Masticare con cura gli alimenti. Cucinare in modo semplice senza eccedere con contimenti grassi, salse e sale. Mangiare tutti i giorni i cereali. Contenere la quantità di zucchero e limitare le bevande zuccherate. Mangiare tutti i giorni verdure, crude o cotte e almeno un frutto di stagione ben maturo. Bere acqua frequentemente durante il giorno, anche se non si aperte lo stimolo della sete. Gussare bevande alcoliche a bassa gradazione, moderatamente e durante i pasti. Utilizzare integratori solo a giudizio del medico. Sono solo alcuni dei consigli per una corretta alimentazione dell'anziano, che si basano sui criteri fondamentali della dieta mediterranea. Un'alimentazione equilibrata è indicata in ogni periodo della vita e a maggior ragione valida nella terza età. Numerose indagini alimentari su soggetti in età avanzata hanno rilevato che spesso l'anziano non si nutre in modo adeguato e segue una dieta monotona. Queste diete limitate sono aggravate di solito da una dentizione imperfetta che crea problemi di masticazione ed inappetenza. L'anziano deve essere sollecitato all'introduzione di liquidi e fa bisogno di vitamine e sali minerali. Può essere assicurato aiutandolo a cucinare tutti i giorni. Senior News termina qui. Prima di salutarvi vi ricordo la miafarma.it, la prima piattaforma e-commerce online a misura di Senior, che ha l'obiettivo di coniugare uno stile di vita sano con la comodità dell'acquisto online e con la salvaguardia del potere d'acquisto degli anziani. Sul sito senioritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.